ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere come passare un audio in mono a un audio in stereo prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial allora spesso no capita che magari abbiamo una registrazione di un audio in mono e naturalmente non è il massimo da usare all'interno di un video quindi principalmente i modi sono due quelli un po più utilizzati poi magari ce ne sono anche molti altri però i più utilizzati perlomeno quelli che utilizzo di più io sono due il primo è importiamo la nostra traccia sulla nostra timeline io adesso vado ad abbassare leggermente l'audio in uscita intanto non mi interessa solo per farvi vedere che se io vado a far play come vedete esce principalmente a sinistra quindi tutto sommato è registrato in mono quindi la soluzione qual è la prima nostra soluzione tenendo premuto il pulsante alta della tastiera andiamo a duplicare il nostro livello andiamo in effetti scriviamo scambio canali vedete sotto effetti audio scambia canali lo prendiamo lo portiamo sulla nostra clip secondaria e se noi adesso andiamo a far play come vedete i due audio sono livellati e portati in stereo un altro modo è quello di andare sulla clip nella nostra praticamente nella nostra sorgente di progetto tasto destro del mouse andiamo in modifica canali audio come vedete qui ce lo da in stereo left and right naturalmente noi abbiamo solo il left quindi il ride non ce lo legge quindi cosa andiamo a fare andiamo a fare praticamente la cosa opposta da stereo lo portiamo in mono andiamo a mettere due clip e selezioniamo left e right quindi il primo la prima clip la teniamo a sinistra e la seconda a destra praticamente andiamo a fare lo stesso passaggio che abbiamo fatto prima ma direttamente dal dalla sorgente del file facciamo ok e se noi adesso andiamo a importare come vedete ci da due tracce e se andiamo a fare play adesso vado abbassare un pochino di nuovo il guadagno dell'audio se andiamo a fare play come vedete ce l'ha già portato in stereo bene questo è un tutorial molto semplice però visto che in alcuni me l'hanno chiesto come poter passare da un audio mono a un audio in stereo ho preferito farvi il tutorial in modo che così è anche più facile da capire detto questo vi ringrazio di avermi seguito vi rinnovo l'invito iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like al video commentate per qualsiasi cosa per qualsiasi richiesta visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti